In che senso dei fattismori si dice, l'individualismo è dasperato un po' come differenza sociale. Ma se ne fai, ma se ne fai, ma se ne fai, si muore. Non abbia mai avuto desintrasi. Non abbia mai avuto desintrasi. E poi fa un culo. Ora che sei a tuo limite, dimmi cosa hai da cantare. Sto in un buio stile, cerca di muore. Non abbia mai avuto desintrasi. Sto in un buio stile, cerca di muore. Non abbia mai avuto desintrasi. 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 Un buio stile, cerca di muore. Non abbia mai avuto desintrasi. Grazie.